Al termine di una partita terminata 0-0 e che ha visto il Cattolica non avere fortuna per l'ennesima volta, le conduzioni arbitrali stanno penalizzando questa squadra immeritatamente. Comunque oggi si è visto un bel Cattolica. Abbiamo i due presidenti di Cattolica San Giovanni Marignano e quindi sentiamo il loro parere. Sicuramente devo dire che la prestazione della squadra mi ha molto soddisfatto. Abbiamo avuto ottime occasioni, abbiamo sofferto un po' nel primo tempo, ma nel secondo tempo abbiamo praticamente dominato. E questo fa ben sperare per il futuro. Purtroppo non è arrivato il gol, che nel calcio è quasi tutto, per cui ci dobbiamo fare in mea culpa. Riguardo le situazioni arbitrali da buon americano, io non commento mai gli arbitri, però sono consapevole che essendo una squadra nuova, fra virgolette, non siamo sicuramente visti con un occhio di riguardo. Cambierà anche questo. Però il gioco c'è. Mi sembra che il tecnico stia dimostrando di saperci fare in questa categoria e i ragazzi danno tutto. E dimostrano di essere una buona squadra. Poi avete molti assenti. Sì, non vogliamo recriminare perché sicuramente chi ha giocato ha fatto del suo. Sì, oggi eravamo particolarmente rimaneggiati, però la squadra ha fatto la prestazione, come ha fatto anche le prime due domeniche. Oggi per fortuna riusciamo a portare a casa a meno un punto, perché ci va stretto anche questo, perché quattro palle, gol, clamorose, secondo tempo, più la traversa, in più. Devo fare complimenti se oggi, dobbiamo dire il migliore in campo, sicuramente il portiere della squadra ospite ha dimostrato di essere veramente forte, quindi bravi loro che hanno questo personale potere. Noi ci prendiamo un primo punto di questo campionato storico e testa la prossima partita. Adesso il calendario dovrebbe essere un po' più agevole, anche se le partite iniziano tutte dallo 0-0. Ma non c'è nessuna partita che è agevole, soprattutto per una squadra come la nostra, che ha dentro anche tanti giovani. Però devo dire che le prime tre partite ci fanno ben sperare. Abbiamo fatto un gioco propositivo, abbiamo fatto un gioco anche entusiasmante, e a volte siamo sempre venuti fuori nella ripresa, che vuol dire che la preparazione fisica è buona. Per cui, certo, teniamo le dite incrociate, ma siamo fiduciosi. Lei cosa dice del calendario? Adesso dovrebbe, non dico essere in discesa, ma dovrebbe consentire a questa squadra che gioca di fare bene. Ma vediamo che la Serie D non siamo mai rapportati con questa realtà. È una categoria dove quando sbagli ti puniscono. Quindi rispetto all'eccellenza c'è un abisso, me l'avevano detto, ma il campo lo sta dimostrando. Però sono convinto che se mettiamo in campo queste prestazioni, come quelle che il mister ci ha fatto vedere, i ragazzi ci hanno fatto vedere, sono convinto che ce la possiamo giocare con tutti. Quindi chiaramente, sì, è vero, abbiamo affrontato, dicono sulla carta, le migliori che hanno dichiarato di voler puntare in alto. Abbiamo dimostrato che con loro ce la possiamo giocare. Diciamo che qui tutte le domeniche è una partita nuova, è una lotta e alla fine gli episodi fanno sempre la differenza. Però se è questo il gioco che la nostra squadra riesce ad esprimere, sono fiducioso anch'io, perché ci stiamo diventando, a di là del risultato, che forse oggi i tre punti ce ne meritavamo, ma ci stiamo diventando veramente a vedere giocare la squadra. Io vi faccio i complimenti e alla prossima. Grazie a voi e... Vediamoci molto spesso, il campionato è lungo, per cui... Certo, certo, avremo anche in America a intervistarla. A quello siete sempre benvenuti, per cui alla prossima, all'amichevole, Miami Beach contro Cattolica, San Giovanni. Buonasera a tutti, grazie. Grazie, buonasera.